Musica Incidente al Bettorino, sulla stada provinciale 222, Baldistero Canavese, oggi domenica 31 dicembre, poco prima delle 15.30. Una frafiesta, condotta da un 74enne di Borgiallo, ha iniziato a sbandare e dopo aver toccato il muro si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, l'elicottero dei vigili del fuoco, la medicalizzata della Croce Rossa di Castellamonte, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri di Castellamonte. L'uomo, subito soccorso, dopo le prime cure, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Ivrea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.